Per quanto riguarda l'educazione alimentare, secondo me è una cosa che deve venire da lontano, ma purtroppo non tutti hanno la possibilità di essere educati fin da bambini, quindi inizierei dalle scuole sicuramente, ma poi il compito di noi ristoratori è quello di, tra virgolette, educare l'ospite quando viene a mangiare il nostro ristorante, spiegargli che non per forza bisogna far arrivare la ricciola dall'Australia per mangiare la ricciola. Il piatto che cucino più volentieri è la pasta e la cosa che mangerai sempre è la pasta. In questo caso faccio anche un piccolo allaccio al piatto che ho portato qui, che è un piatto dell'infanzia e quindi mi ricollego anche all'educazione, il tagliolino che abbiamo presentato qui per questa manifestazione. Il cibo è testa, cuore, braccio.